gemma del sud tra i tanti chiamiamoli personaggi di youtube c'è anche da segnalare la presenza di gemma del sud questa ragazza siciliana all'anagrafe si chiama francesca la quale ha tempestato youtube nel 2008 2009 più 2009 azzardo anche a dire 2010 con i suoi pregiati video video in cui la pulzella la donzella in questione va a ballare va a mettersi a coprirsi di piacevoli commenti grazie al fatto che si espone al pubblico in una veste chiamiamola piuttosto succinta balla si anima si fa riprendere lei stessa da sola in maniera autonoma e automatica grazie alla webcam probabilmente di casa e balla canta si espone si fa notare non ha paura di farsi vedere e a volte si vedono addirittura le mutandine insomma gemma del sud è stato un personaggio che voi o non voi nel 2010 2009 si parlava tanto di lei ed è stato un personaggio davvero importante di youtube italia è stato un pilastro così lo vado a definire secondo la mia opinione proprio del web di youtube attraverso i suoi simpatici video francesca gemma del sud si è fatta sempre notare per essere una ragazza trash così la definisco e mi ricordo ancora quando canto pop 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 poker face ecco andatevi a vedere chi è costei gemma del sud ne rimarrete davvero sorpresi ha una capacità di impressionare il pubblico pazzesca che significa che sa essere un personaggio a tutto tondo che sa essere se stessa che non ha paura di esporsi che non si prende troppo sul serio che fa divertire grazie ai movimenti di quell'aulico corpo di quella ligido corpo che ha e soprattutto possiamo considerarla come una vera e propria ragazza di periferia no possiamo anche definirla forse come un anfibio un anfibio un misto tra un essere umano capace di respirare autonomamente fuori dall'acqua e all'interno dell'acqua riesce lo stesso a respirare perché anfibio perché personaggio anfibio probabilmente un anfibio di youtube potremmo definirlo eppure è un essere umano a tutti gli effetti due gambe due gambe due braccia due occhi un naso una bocca attenzione la parola anfibio non è da annovelare come offesa è da annovelare come complimento io non sto denigrando gemma del sud sto dicendo che è una ragazza straordinaria molto bella affascinante sexy piacevole ma è anche un personaggio che azzardo a dire nel corso degli anni si è fatta notare più e più volte grazie alla sua maniera di fare con gli altri soprattutto di video che sono entrati a piano diritto nel ben impaginato mondo di youtube italia come video trash da vedere quando non c'è niente da fare e da degustare appressandone ogni piccola sfaccettatura e ogni piccolo movimento che la simpatica francesca alias gemma del sud ha saputo fare e ha saputo compiere nel corso degli anni dunque complimenti a francesca alias gemma del sud per il suo impegno poi ho saputo che è dimagrita all'inizio era un pochino formosetta un po formosa un po in carne poi è dimagrita e adesso credo sia dimagrita poi si era tagliato i capelli se non erro e dovrebbe essere diciamo così se non erro dimagrita ecco detto questo grazie da leandro il conosciutore italiano è tutto iscrivetevi mi raccomando se vi va commentate fornitemi la vostra opinione al prossimo video e una buona giornata a voi tutti